È il giorno dedicato alle imprese, quello di oggi la data nella quale l'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano nell'ambito del tour per illustrare i dettagli del piano urbanistico comunale che darà un nuovo volto al comune dei Picentini e va condiviso con la popolazione, ha scelto di soffermarsi sugli aspetti che renderanno il territorio più appetibile anche per le aziende che lo sceglieranno per i propri investimenti. Presso la sede di Formamentis l'incontro con il sindaco di Ponte Cagnano-Faiano Giuseppe Lanzara ed il suo assessore all'urbanistica Dario Vaccaro che si sono soffermati su diversi aspetti. In primo luogo la viabilità che grazie ad un progetto realizzato dal consorzio ASI migliorerà l'accessibilità al polo aereo-portuale con una serie di interventi che vanno dalla metropolitana, due nuovi svincoli sulla versana, a nuovi sistemi anche di sottopassi e strade. Tanto ci sono anche due sogni nel cassetto che sono i progetti con i quali Ponte Cagnano si è candidata al Masterplan per la costa sud e che riguardano la fascia costiera. Sì, il primo progetto ne abbiamo parlato già nella scorsa campagna elettorale adesso abbiamo fatto tutte quelle attività propedeutiche ad accompagnare questo progetto che è quello che riguarda un grosso parco in zona litoranea, a Magazzeno. È un concetto che abbiamo condiviso anche con lo studio Boeri per quanto riguarda il Masterplan ed è stato già accompagnato. L'altro progetto che è sempre molto importante è quello di un polo fieristico. Il sud Italia non ha una struttura adeguata ad ospitare fiere di un certo livello e quindi Ponte Cagnano si candida ad essere un hub attrattore di queste attività. Nell'ambito dell'incontro di questa mattina il Sinaco Lanzara ha colto l'occasione anche per presentare una manifestazione di interesse destinata alle attività produttive. L'obiettivo è quello di raccogliere, partendo dal basso, dalle esigenze vere, in questo caso degli imprenditori, delle attività commerciali, di tutto il mondo del turismo ricettivo, sportivo, del terzo settore, di raccogliere quelle che sono le reali esigenze per realizzare, quindi arrivare a una perimetrazione delle nuove aree industriali, delle aree produttive nel nuovo piano urbanistico comunale. Cioè la voglia di raccogliere le esigenze e di disegnare una città che sia equilibrata e che possa tenere dentro anche l'interesse di importanti investimenti, perché con l'aeroporto, con la riqualificazione del litorale, del masterplan, ci sarà uno sviluppo della città incredibile con un indotto enorme e quindi noi dobbiamo essere pronti e preparati, anche con il nuovo strumento urbanistico, a raccogliere tutto l'indotto che si potrà realizzare attorno a queste opere strategiche. Oggi è stato chiarito anche un aspetto rilevante di questo piano urbanistico comunale che è quello che va a risolvere in qualche modo alcuni nodi importanti sulla viabilità, perché c'è tutto un insieme di infrastrutture, dalla metropolitana all'accesso alla viabilità per la zona Zoss e per l'aeroporto, che renderà, libererà, possiamo dire così, sindaco, il centro di Ponte Cagnano dal traffico. E quello è l'altro tema vero, il problema tavico di Ponte Cagnano-Feano e il traffico nel centro urbano. Noi lo stiamo pian piano risolvendo con una serie di interventi di dettaglio, con una serie di strade che abbiamo già aperto, di rotatori importanti, però fondamentalmente quello che abbiamo presentato oggi sono finanziamenti di 22 milioni di euro, quindi opere già appaltate, con lavori che partiranno entro quest'anno. e parliamo ovviamente di rafforzare tutta la zona a confine con Salerno, quindi rafforzare la viabilità su scavate case rosse che possa limitare quello che è l'accesso sulla nazionale. Ci sono diversi interventi, così come la promenade archeologica, quindi questa strada parallela che parte dal centro di Ponte Cagnano e taglia l'intera nazionale fino ad arrivare al parco archeologico e allo stadio. Quindi abbiamo già in testa e ripeto con progetti approvati e finanziati questi interventi che risolveranno il tema del traffico. A questo poi va aggiunto che noi dobbiamo riqualificare con il contratto fiume il fiume picentino perché noi dobbiamo vivere il fiume. Il fiume deve essere una grande opportunità anche per l'ambiente, per il recupero di aree degradate che possono essere messe a disposizione dei cittadini e delle famiglie. Intanto domani si inaugura anche il nuovo stadio finanziato dall'amministrazione comunale con un milione di euro. L'investimento che ha fatto questa amministrazione è enorme, parliamo di oltre un milione di euro, però era un investimento importante, l'abbiamo messo al centro del nostro programma elettorale perché volevamo dare dignità alle tante società sportive che praticano questo sport e soprattutto ai bambini, alle associazioni che tutti i giorni avranno la possibilità di avere uno stadio adeguato, all'altezza, moderno, in erbetta sintetica, quindi davvero un grande intervento importante che la città attendeva da decenni.